salve a tutti e ben ritrovati dal vostro joe come potete vedere il mio rank è tornato ad essere quello d'oro esatto perché hanno aggiunto la nuova chaos ancora non sono riuscito a trovare una soluzione valida per riuscire a chiudere quest'ultima chaos ho provato un paio di soluzioni ho provato un paio di team però purtroppo ancora non riesco effettivamente ad inquadrare bene la strategia giusta ho visto che molti comunque hanno utilizzato zack molti hanno utilizzato wall molti hanno utilizzato dei tank che comunque hanno permesso di poter prevenire alcuni danni soprattutto nella prima fase io invece purtroppo zack wall tutti i miei tank li ho bloccati quindi purtroppo non riesco a sbloccarli e in realtà non vorrei neanche sbloccarli forse sbloccherò wall nella terza chaos dato che comunque adesso possiedo personaggi più forti possiedo comunque dei personaggi che riescono a fare anche molti più danni in base a tutto quello che succede spero comunque di riuscire a vedere un barlume di speranza proprio perché vorrei effettivamente chiudere anche quest'ultima chaos nel frattempo però che cosa è successo è successo che è uscito il nuovo evento di pandemon o pandemona in base a come la chiamate voi quindi pandemon livello 30 quindi ultimate pandemon è disponibile da adesso in maniera permanente all'interno del gioco con personaggi super sinergici che ovviamente lo accompagnano i personaggi super sinergici vediamo se si vedono qua non ricordo se li facevano vedere no non li fanno vedere però comunque vi posso dire che sono penelo edge istola vivi lion e non mi sto ricordando l'ultimo però adesso lo vedremo dai banner perché sono usciti due banner ecco uno dei banner e fregia ecco uno dei banner dove avremo la possibilità di ottenere la ex di lion la ex di vivi e 15 e 35 cp di fregia con rate up io di questo banner ho tutto quindi non mi interessa assolutamente niente lion ce l'ho maxata tv ce l'ho maxato e fregia ce l'ho maxata quindi è un banner che per me è completamente schippato invece l'altro banner ovvero quello principale quello che accompagna ovvero pandemon al suo livello 30 è questo ovvero penelo ed edge che ricevono la loro ex plus e istola in banner con loro con 15 e 35 questo vi posso dire essere un buon banner se non avete istola o comunque non avete la non avete avuto la possibilità di investire sulle armi di stola e magari avete preso la ex o volete prendere la ex con i golden token questo è sicuramente il banner che fa per voi perché 15 e 35 di stolen rate up vi permette comunque di ottenere le sue le sue armi qualora voi puliate le puliate le vostre gemme e invece penelo devo ammettere essere diventata un buon support quindi ormai sappiamo benissimo che nelle caos i support sono quasi principi i re indiscussi di ogni caos quindi effettivamente investire sui support come penelo in questo caso potrebbe effettivamente fare comodo tra l'altro fa anche una discreta quantità di danni io ovviamente l'ho vista soltanto dal suo lato sinergico barra super sinergico quindi diciamo che effettivamente l'ho vista un po troppo pompata forse per i miei gusti dovrei provarla fuori dovrei vederla fuori dal suo evento però vi posso assicurare che comunque adesso il suo set è abbastanza interessante regione valz e haste praticamente adesso diventano come se fossero free praticamente vi permettono di non perdere turni quindi potrete dare i buffo tutti in una volta e poi sprigionare il vostro attacco che è una cosa che penso sia la base ormai di questi nuovi personaggi mentre invece edge comunque abbastanza carino riesce ad evocare i cloni smoke screen da tra virgolette evasione a tutto il party per due turni se non ricordo male da quello che ho visto però di per sé comunque un personaggio molto molto standard pensavo addirittura facessero un qualcosa di più grosso però da quello che ho visto penso che l'utilità più grande ce l'abbia penelo di questo banner parlo ovviamente io parlo sempre per quello che ho visto magari poi qualcuno di voi ha utilizzato edge ha provato edge mi dice mi scrive sotto nei commenti no vedi che edge comunque una bestia e allora io dico vabbè lo devo provare lo devo vedere e vi dirò effettivamente com'è io per quello che ho visto nel trailer e per quello che ho visto in giro utilizzato diciamo per quello che ho visto in giro come personaggi utilizzati ho nettamente apprezzato di più penelo quindi anche in questo banner ex plus di entrambi edge e penelo 15 e 35 di stola ottimo banner se volete investire nulla da dire per quanto riguarda invece il resto vi volevo anche invitare possibilmente a una mia live di farming estremo per quanto riguarda pandemona o pandemon io lo chiamo in un modo o nell'altro perché ovviamente l'abitudine è quella fatemi sapere voi quando effettivamente vorreste vedere una live magari dopo pranzo oppure stasera non lo so magari fatemelo sapere voi io teoricamente dovrei essere libero in entrambi le situazioni però forse dopo pranzo mi viene anche più facile comunque fatemi sapere voi io male che vada leggerò i commenti e poi in base a quello che c'è e in base anche ai miei tempi prenderò una decisione che cosa facciamo quindi in questo video in questo video non solo per farvi vedere e aggiornarvi un pochino sul mio profilo su quello che sta succedendo oggi mi voglio andare a tirare i ticket sul banner di penelo perché questa scelta io non ho lingotti perché li ho investiti su lulu lulu è praticamente uno di quei personaggi più forti nel senso di completezza come armatura come armi e come tutto è uno dei personaggi che ho più completi e più forti per quanto mi dà emperil soprattutto di elemento fuoco quindi dando comunque il boost a tutta la squadra e dando la debolezza alla squadra avversaria con l'elemento fuoco ho investito su di lei perché è l'unica emperil che ho a parte golbez che da emperil oscuro o anche effettivamente yuri e o anche eiko però loro non danno il buff elementale alla squadra mentre invece sia onion che lulu lo danno però onion ancora purtroppo ce l'ho davvero davvero debole quindi non riesco effettivamente a potenziarlo o non mi viene da potenziarlo in questo momento mentre invece lulu a differenza di onion è decisamente messa meglio e quindi ho investito su lulu ho già dato due lingotti su tre quindi mi manca l'ultimo lingotto per farla totalmente viola cosa che farò ovviamente nel momento in cui avrò le risorse e poi probabilmente il prossimo personaggio che andrò a maxare sarà hate hate è uno di quei personaggi che devo assolutamente dare almeno due lingotti per attivare il counter subito perché il counter da subito dà una mano veramente veramente grande ve lo posso assicurare e quindi niente questi sono i miei progetti futuri però per il momento ho ben 45 ticket che voglio utilizzare su questo banner li voglio utilizzare perché con il farming ne otterrò sicuramente di più e questi 45 ticket in base a quello che dovrò pullare in futuro in base a quello che uscirà nel mese prossimo non mi fanno la differenza ovviamente le gemme non le toccherò tutte quelle che riuscirò a formare tutte quelle che riuscirò ad accumulare non saranno toccate resteranno come fondo cassa per il mese successivo anche perché voglio vedere effettivamente che cosa ci sarà e quindi detto questo cominciamo vorrei effettivamente trovare anche solo la ex di penelo per potermela tenere da parte e poi investire in futuro il mio obiettivo principalmente è questo oddio che cosa sta succedendo tutto un connecting loading tutto strano ti prego non me lo dire subito ah ecco dai e che palle allora alcuni ticket li stavo dicendo alcuni ticket li skipperò altri invece li farò vedere tutti madonna mi sta avvenendo un magone perché vedo sti connecting poi vedo le orb grigie quindi cioè non so cosa pensare perché l'ultima volta che ha fatto così mi ha dato la ex poi poi non me l'ha data poi mi ha fatto quello poi ha fatto quell'altro cioè una cosa incredibile comunque andiamo abbastanza veloci con i ticket magari gli ultimi poi ce li godiamo visto che comunque ne ho ben 45 e vedere 45 ticket così può essere effettivamente stancante schippiamocene almeno la metà e poi gli ultimi venti magari ce li godiamo tutti quanti così per lungo tra l'altro se dovesse ottenere le armi di edge in questo caso e di stola sono tutte power stone quindi che servono sempre per cui terrò da parte metterò da parte assolutamente assolutamente per i personaggi futuri o comunque in generale per quello che è per quello che arriverà ho una bella orb grigia vediamo però c'è stato un loading particolare forse sono armi di istola ah no ok la 15 di penelo è già qualcosa perché comunque penelo ricordiamoci che è quella su cui voglio investire per cui già trovare le sue armi mi sta bene mi sta molto mi sta molto bene mi sta molto bene le 15 effettivamente si trovano abbastanza diciamo abbastanza facilmente a dire la verità perché comunque le 15 sono i rate up sono le armi di tier più basse oro intendo quindi è abbastanza facile trovarle però bisogna anche vedere le armi di quali personaggio ti escono perché fondamentalmente il problema è quello sarà anche un'occasione finalmente di poter fare le mastery anche istola dato che prenderà il per due in questo in questo evento per cui avrò la possibilità di poter formare anche le altre board con istola ovviamente dopo che finirò di formare pandemon questo mi sembra abbastanza logico ok cominciamo con i 20 ticket che ci godiamo più lentamente così giusto per dare spazio anche alle magari sorprese del gioco quindi fatemi sapere ovviamente se volete la live ecco ecco vabbè istola powerstone quindi va benissimo fatemi sapere quindi se volete la live a che ora volete la live poi ovviamente vi ricordo sempre al solito gruppo telegram gruppo discord tutti in descrizione sotto nei video quindi potete tranquillamente contattarmi o comunque entrare nei vari gruppi dove ci sono anche io per qualsiasi cosa in generale ovviamente tra l'altro il gruppo telegram si sta bello movimentando finalmente abbiamo un sacco di membri nuovi anche i discord dove le persone entrano quasi ogni giorno quindi è bello come si stia riempiendo piano piano sia il server di discord che anche il gruppo telegram quindi mi fa piacere qualora voi vogliate venire interagire con noi parlare discutere non solo di opera omnia ma in generale di tutto quello che è il mondo un pochino del videogiocatore quindi anime film eccetera eccetera allora altra boccia argentata che mi dà è la 35 di stola ma io ovviamente già ho tutto di stola ho il kit completo quindi un back to back dammi almeno anche la 15 di penelo bravo hai visto almeno già ne ho due perfetto vedi magari consumo meno power stone mi va benissimo sono 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 molto contento se mi va se mi va così poi ovviamente qualora non ottenessi nulla vediamo vediamo perché tenere le armi di un personaggio che non riesco a maxare comunque non lo so io le tengo a disposizione le armi oddio che succede si è bloccato tutto oddio c'è proprio una cosa pazzesca boom ex di penelo si ancora una volta i ticket portano fortuna grandissimo ex di penelo si è bloccato tutto ed era per questo che si era bloccato tutto grande ottimo sono contento perché è l'unico personaggio che volevo da questo banner sono davvero 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 contento non so come devo maxarla adesso ragazzi io non ho idea di come debba maxare sta penelo non ne ho assolutamente idea quindi non fatemi domande perché non ho né power stone né lingotti non ho niente niente non ho neanche forse gli armor token per dare l'armatura a penelo quindi immaginate il casino come sono messo male in questo momento però averla già trovata è tanta roba perché anche dopo non mi interessa riesco comunque ad avere un buon support ottimo power stone che mi servono che devo maxare le varie armi certo mi sarebbe mi sarebbe servita a questo punto anche la 35 mi sarebbe servita la 35 di penelo giusto che così almeno ho ottenuto tutto con diciamo tutto tra virgolette ho ottenuto quello che volevo con ben 45 ticket magari qualche altro ticket posso buttarglielo dato che ormai ho trovato penelo però le gemme comunque le terrò belle conservate per il futuro i ticket bene o male possiamo utilizzarli così se ne abbiamo davvero davvero tanti mentre invece le gemme preferisco tenelle da parte comunque penso che per il momento non debba farvi vedere più niente io vi ringrazio al solito per essere stati con me e ovviamente ci vediamo in live o stasera oppure oggi dopo pranzo